Incidente nel primo pomeriggio di mercoledì 18 maggio in via San Pietro Martira di Ivrea, a scontrarsi una moto BMW proveniente dal lago Sirio condotta da un 52enne e una Skoda Ottavia che stava entrando in un cortile privato. Il motociclista dall'urto è finito a terra. Sul posto sono prontamente intervenute l'ambulanza della Vasca di Caravino, il soccorso avanzato della Croce Blu e la polizia locale. Il centauro dopo le prime cure è stato trasportato all'ospedale di Ivrea con traumi ad una gamba e alla schiena. Non pare essere in pericolo di vita, il leso conducente della vettura, il sinistro l'avvaglio della polizia locale. Non metti la sirena perché c'è anche la la... Non metti la sirena perché c'è anche la sirena. Non metti la sirena perché c'è anche la sirena perché c'è anche la sirena. Non metti la sirena pericolo della mia insieme.